bella per voi regala stai senza tempo invecchiati dei vent'anni marco e diego post partita pezzi alazio 3 a 4 incredibile siamo riusciti a soffrire anche qui sapevamo che era una partita complicata lo spezia si salvare a quattro partite difficilissime noi milan atalanta e non mi ricordo l'altra comunque un'altra partita complicata si vabbè ma non così io ho capito che siamo la quattordicesima difesa peggiore noi la dodicesima loro la quattordicesima 14 e 16 è uguale ma c'è stava poca differenza tra noi e loro la difesa e oggi si è visto tre gol dallo spezia l'ha mai fatto in serie a stanno spezia ce ne rendete conto l'ultima volta l'anno scorso a maggio contro il aveva fatto più ha fatto quattro gol credibile incredibile tre ti rimporta tre ti rimporta il primo gol decisione tra basi e stragoscia ma io direi colpa di stragoscia cioè come fai a non chiamarla devi scilla ma non mancate di chiamare esce basta quella sapale sta andando nell'area piccola basice magari poteva proteggere di più l'uscita ma doveva proteggere la palla non è che doveva usci doveva prenderla lui cioè lì stragoscia deve sci e pia mongoro di naso quello manco sa come ha fatto dei labbro così mi ha segnato cosa ne ha messo a di petto però vabbè sta cosa stragoscia l'ha sempre avuta e non io penso che ormai non no non va più questa cosa ormai è così basta appunto la cosa che ci ha fatto veramente perdere l'anni di vita sono state che dopo noi pareggiamo con il mobile su rigore rigore in sacro santo e due minuti dopo per due a loro noi famer due a due un minuto dopo il 3 a 2 loro ma poi c'è tutti errori da difesa incredibili che poi vabbè secondo più che patrick direi errore di cadaldone che gli ha dato una pallaccia e patrick una controlla poi non butta a terra chi era gudelo giustamente perché sarebbe stato complicato e niente poi noi pareggiamo al secondo tempo con l'azione rogambolesca gran botta del zaccani oggi ha fatto una buona partita e tra l'altro ha preso anche un altro palo dopo parecchi palestani palla sul palo capoccia del portiere fino a quel momento aveva fatto quelle belle parate si si beh a confronto a stragoscia che probabilmente non sa cosa hanno mai parlato una palla no no niente soltanto hanno fatto quei tre tiri basta non ha mai preso la palla che le mani stragoscia vabbè dalla ridi dalla ridi dalla ridi dal fondo al sacco comunque si vabbè era meglio se il zaccani segnava però così è stato un po divertente questa capoccia dei provvedello che ha ribattuto in porta poteva dire gol diciamo e poi su vabbè un fallo di patrick che patrick che fa ha fatto due tre volte lo stesso fallo cioè invece di aspettare col giocatore sulla linea di fondo lui dietro con la punta del piede con le vai alla palla quelli si fanno far fallo manai molto bravo in questo ha fatto anche una buona partita diceva un gioco dell'interessante ma vabbè verde sacro stare a battere punizioni infatti ha messo una posizione bellissima che poi hanno segnato milido spezia ma un minuto è passato tutto ogni gol nostro dopo un minuto loro si riportavano un vantaggio qua diciamo acerbi non salta però secondo me il vero problema è che sta difesa zona nel calci da fermo regano non funziona sarri cioè fai vedi di cambiarla sta cosa cioè noi con i giocatori che abbiamo non possiamo fare la difesa zona nel calci da fermo impediamo a stracoscia deve uscire se deve uscire che già quello non esce in più gli metti pure due linee dei difensori davanti quello si caga sotto non sapevo né battere punizioni né riceverne questo è il vero problema però vabbè dopo ci pensa un signor giocatore come se game in cui stavi c'è che decide vabbè che sto posta palla al centro dell'area metto per te la capocciata o faccia prima di dire una bomba di sinistro e a verga incommentabile ormai sergio veramente se non ci fosse lui stanno sempre c'è stato visto hanno perso previamente quasi tutte le partite perché gestisce palle in un modo incredibile da centrocampo e segne arrivato a 10 gol 11 assi esatto se terzo centrocampista in una roba in europa ha raggiunto la doppia doppia quindi doppia cifra d'acqua doppia cifra assist un cuncuncun come siamo comunque e vai lizia e palle del marsia due squadre che giocano il campionato diciamo non molto competitivi quindi diciamo che vuol dire tanto più più di the bru in quest'anno sta facendo a livello di numeri e e diciamo che arriviamo non al tasto dolente ma comunque quello che ci ha fatto Rosicale l'ultimo partito cioè il 4-3 da Razio segnando da Cervi che fuori là è stato un po' ha rischiato di far così non sapeva cosa fa non sapeva se i dieti nelle orecchie azzitti tutti invece pensate che ha fatto una non l'ho visto l'hanno coperto quindi non te fa vedere state zitto però vabbè quando c'è da esurtare se esurta anche se poi ci mancherebbe crea macelli c'è telefono di casa che squilla però raga abbiamo vinto questo è l'importante ma c'è da dire che deve cambiare sicuramente qualcosa soprattutto nella difesa perché oggi c'è stato un impanicamento generale ogni volta che si toccava la palla in difesa ogni volta che arrivava la palla a Patrick con la Cervi c'era la stizza sia a noi che si vede proprio in campo che sembra che c'era una patata bollente quella che c'essero fra i piedi che poi in realtà poi la Lazio ha giocato tutto il tempo nel centro cioè la partita Spezia ha fatto la partita che doveva fare e ci stava riuscendo poi un po' gli episodi un po' poi la determinazione che finalmente si è vista anche se avversario con tutto rispetto è un avversario modesto rispetto a Sì come regalo Spezia però ecco alla fine la vittoria arriva tornando su Acerbi alla fine sono contento perché mi dispiace vedere la situazione del genere quindi ci sta che lui segni fa anche un bel gol fortunoso magari però insomma lo cerca e dopo un paio di rimpalli fa insomma un bel lob inizia male facendo dei lanci a caso passaggi sbagliati movimenti strani dei campi che servivano a mezzo a due che non erano né per i febri andres né per l'Azeri però vabbè regà però fa il lancio poi per Milinkovic che si guadagna a calcio di rigore e fa il gol vittoria quindi bene così vediamo di metterci alle spalle almeno fino a fine campionato queste cose come ho detto già nel video che ho fatto e una delle cose che abbiamo capito però è che forse Basic e Cataldi insieme non non so se possono giocare tutti e tutti insieme perché Basic fa come ha detto il telefonista fare cose molto scolastiche fare inserimenti però se hai inserito un miliardo di quarti hanno passato due volte due volte hanno passato la palla quindi ovviamente lui un po' fa il lavoro che fa Luiz Alberto gli va anche il piede alla classe allora Luiz Alberto lo conosciamo io quest'anno per me è bocciato e sembra che i telefonisti non avessero mai visto giocare non avessero mai visto la partita da Lazio perché decisioni di Sarri ti mettono panchina quest'anno come si fa cioè insomma quest'anno ha fatto pochissimo Luiz Alberto nonostante poi alla fine ha fatto otto assist in stagione però in realtà lo fa con Spezia Venezia esatto quindi mi vuoi l'assist per Luiz Alberto mi dico che c'è il suo nonostante rimpallo vabbè entra e effettivamente è una soluzione dalla panchina come io dicevo anche all'inizio campionato forse se Basic avesse giocato di più durante l'anno sarebbe più nei meccanismi e Luiz Alberto dalla panchina potrebbe essere una carta piuttosto che Basic della panchina che è uno che non ti dà niente a livello tecnico cioè ti dà poco però insomma alla fine l'abbiamo sfangata il River Anderson bene e male infatti io speravo che entrasse Romero prima invece entrare il 92 tra l'altro se Romero all'ultima azione in cui rischiamo di fare 5 a 3 praticamente Immobile è partito a Ciavatta se Romero se fosse inserito invece centralmente e più lateralmente probabilmente avrebbe preso il tiraccio che poi forse crea pure il rigore ma si spinto poi dato fallo contro vabbè l'importante adesso che abbiamo vinto non è la cosa più importante perché ci sono delle lagune regà anche al centrocampo secondo me a certe parte clamorose che devono essere colmate colmate ragazzi non si può andare avanti così una cosa che non c'entra niente con Alazio prendete il signore che sta a fianco dei telefonisti lo mettete in un manicomio per favore tutto il tempo a gridare contro Ciro a buffo contro Zaccani non hai segnato contro la Macedonia io non ho capito perché l'hanno preso e buttato fuori dallo stadio ma a terzo tempo non si è sentito infatti non si è sentito però a fine del secondo tempo a fine partita ci hanno gridato ladri ma ladri dei che probabilmente il recupero era stato troppo corto forse forse sì forse forse qualche cosa in più poteva notarlo ladri però ladri ne esageriamo alla fine Alazio si è meritata sta vittoria un applauso ovviamente ai più di 1200 ma il 1200 è il settore degli ospiti più hanno parlato altri biglietti si parla di più di 1300 persone quindi i nostri essersi regati vecchio stile con Treno e Pullman alla Spezia tu dici non è importantissima vittoria dico invece importante la vittoria prendiamo questi tre punti e andiamo a cercare di vincere il più possibile per quello sì e l'Europa League non è un miraggio ce la possiamo fare non si è passata a Roma vediamo domani che fa vabbè come al solito bella per voi un bel mi piace una bella iscrizione se beccamo ciao ciao grazie